Ciao ragazzi, video SOS unghie, finalmente un nuovo video per questa rubrica che avevo un po' abbandonato, però non avevo idea, è la verità. Come sistemare lo smalto sbeccato, quando non abbiamo tempo, andiamo di fretta, per non stare a togliere tutto lo smalto di nuovo, per non indebolire le unghie ulteriormente. Come sistemare le piccole sbeccature in punta. E' facilissimo, servono pochi attrezzi, cotton fioc, solvente e smalto, con top coat naturalmente, quindi possiamo farlo tutte. E nulla ragazze, vi lascio al tutorial. Imbeviamo il cotton fioc all'interno del solvente e andiamo praticamente a livellare i bordi per non ricreare delle antestetiche striature. Dopodiché vado a stendere lo smalto normalmente e passiamo il top coat se vogliamo un risultato ancora più duraturo. Dopodiché vado a stendere lo smalto. Come avete potuto vedere è facilissimo. Nei commenti fatemi sapere i vostri metodi dove dovete recuperare una manicure magari all'ultimo minuto quando avete sbattuto sull'armadio o da qualche parte per prendere le chiavi nella borsa. Io vi rimando al prossimo video, anzi scrivetemi qualche argomento che vi interessa qui sotto in modo che continuo questa rubrica SS Unghie. E pollice in su se vi piace questa rubrica. Ciao! Grazie a tutti!